Un saluto a tutti da Piero Gipardo e Stefano Nava, benvenuti al Big Match fra Inter e Juve. Una partita che spesso sarà decisiva per l'assegnazione dello scudetto, la partita più giocata nella storia del campionato italiano che si appresta oggi a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante rivalità nella cornice meravigliosa di San Sino. Il derby d'Italia non è una partita come le altre, per molti tifosi in arazzorio e bianconeri è addirittura più sentita della stracittadina con Milano e Torino. Tanto per dare un'idea del clima che attende i 22 protagonisti in campo, manca solo il fischio dell'arbitro e via che si va! La squadra ospita può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Tutto è pronto per questo match che vedrà impegnata la Juventus. Sono al comando della classifica, Pier, ma non è ancora finita. Per mantenere questa posizione e conquistare il titolo dovranno giocare con la massima concentrazione senza commettere errori e approfittando di quegli altri. Ecco con l'aiuto della grafica la formazione dell'Inter. 4-5-1 per loro oggi che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sulla porto dei due esterni sia nella fase di non possesso sia sul ribaltamento dell'azione quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Scelgono di giocarsi alla viso aperto, vanno in campo a tre giocatori d'attacco di cui due in posizione defilata e ovviamente una prima punta. 4-3-3 classico utilizzato anche in Italia da parecchie squadre e sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Inizia questo Juve-Inter, primo pallone giocato con spettacolo e rivalità in arrivo, come sempre. Difficile che il derby d'Italia dell'Uda le attese. Di solito le sfide tra bianco-neri e nero-azzurri offrono sempre grande intensità dal punto di vista agonistico. Speriamo di poter assistere anche a gol e giocate spettacolari. Ecco Alexander. Intervento tempestivo nel... Intervento falloso, gara subito, canta. Schuau che è al seno. Aiuto a caccia del gol. Sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. Guarda il cavale. Guarda il cavale. Guarda la traiettoria del passaggio. Occhio al Pipita. Ecco Dybala. Dybala! Allontana il difensore su questo tiro. Cerca il traversone. Terisic. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro. Se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Rivediamo il gol appena realizzato dall'Inter. Un replay che ci permette di apprezzare meglio il gesto. Bello di la parte. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Ha scelto bene il tempo e ha colpito di testa, superando il portiere. Ah sì, è davvero una bella giocata la sua. Si ricomincia dunque con l'Inter che è avanti nel punteggio. Paolo Dybala. Alessandro. C'è spazio per andare. Samy Kedira. Dybala. Dyguain. Occhio al filo di Dyguain. Paolo e non è finita. Attenzione. Sfira fra le più nobili del nostro calcio. Juve Inter ha visto affrontarsi sul Prato Verde tantissimi campioni nel corso della sua storia. Da una parte e dall'altra. Alcuni addirittura con la maglia di entrambe. Pensiamo a Boninzegna. Si ripartirà con un calcio di punizione contro la Juve. Di bala. L'Inter recupera il pallone. Punta l'area. Bravi qui a bloccare tutto. Attenzione a Perisic. La mette in mezzo. Spazzano senza problemi. Dybala. Ipita e Iguain. Occhio cerca l'area di rigore. Borcavalet. Perisic. Matuidi. Dykstein. Palla l'area. Sabi che dire. Prova Gonzalo Iguain. Buona la parata in presa da parte del portiere. Borcavalet. João Cancelo. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Il tocco dentro. Gol solo sferato qui. Pallone che finisce non lontano dal palo. La stricciata troppo. Se l'avesse presa piena probabilmente sarebbe stata un'occasione vincente. Samy Chedira. Pallone che finisce non lontano dal palo. Pallone che finisce non lontano dal palo. Pallone che finisce non lontano dal palo. Candreira. Baragna metri verso l'area. Palla schizza via dopo il contrasto. Pallone che finisce non lontano dal palo. di 1 a 0. e la Juve a battere il calcio all'inizio della ripresa. Pianic. Dijkstein. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. La Juve a cazza del gol. Pianic. Prova dalla distanza. Hanno sfiorato il gol del pali. Bel tentativo dell'attaccante. Che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì. E' mancata un pizzico di precisione. Perisic. Vessino. Intervento efficace del difensore che traccetta il lancio e recupera palla. Occhio al Pipita. Matuidi. Pianic. Ecco Kedira. Fermo l'azione. Recupera il pallone. Mettendosi sulla traiettoria giusta. Candrema. Ottimo intervento. Matuidi. Vada indietro al compagno. Douglas Costa. Baragna metri. Matuidi. Puntuale qui il difensore nel recupero. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Hanno metri a disposizione. Di testa per il compagno. Palla messa dentro. Ma non granché il cross. La difesa a vita facile. Kedira. Sarà fallo. Calcio di posizione contro i nerazzurri. Pieri. Il tecnico opta per il cambio e per la gestione del vantaggio. Dich stai. Occhio al suo movimento. Pjanic. A caccia del gol del pari. Palla che finisce di poco sopra la traversa. L'aveva colpito bene di testa. Eh, ma ha alzato un po' troppo la mira. Il tecnico opta per la gestione del vantaggio. 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 Candrema, buona l'idea qui, prova l'avanzata l'Inter, la mette in mezzo Non la blocca È riuscita a interrompere la trama con un buon intervento Icardi, palla buona per Icardi Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta Hanno un discreto vantaggio da gestire Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa Cambio dunque, è un modo per dare un messaggio anche psicologico ai giocatori a caccia del pareggio Hanno raddoppiato, adesso sono avanti due a zero Stefan Lichtenstein Paolo Di Bala Si avvicina all'area Pipita Iguain Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio Mancano dieci minuti alla fine della gara Marchisio Quadrado La traiettoria verso il centro La difesa alla meglio e allontana il pallone Icardi Partono in contropiede Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone È punizione, è posizione invitante L'autore del fallo viene dunque ferito sotto la doccia Gli avversari cercheranno di sfruttare questo calcio piazzato Posizione molto interessante Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male Qui il fallo c'è tutto Lo hanno visto tutti, troppo evidente Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto C'è la sostituzione in casa Inter Ciocca al seno Conclusione che merita la più fortuna, vero Stefano? Sì, pregevole il gesto tecnico dell'attaccante Geniale direi Nel trovare a scavalcare il portiere con il tocco sotto E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti Quadrado A Juve a caccia del gol Tipita Iguaita Marchisio Punizione da una mattonella molto interessante Arriva il cartellino giallo per il giocatore dell'Inter Giusto, era un fallo da sanzionare, giusto il giallo In diretta mi sembrava un intervento onesto, pulito Ma l'arbitro non è stato di questo avviso È difficile che i giocatori si accusino di un fallo Ma in questo caso E in questo caso la scorrettezza era troppo evidente per restare impunita Respringe la barriera Prova ad andare Grande intervento del portiere Sarà addirittura il portiere per fruttare questo corte Occhio al cross di Pjanic Buono un anticipo del difensore L'arbitro fischia dunque alla fine del match Sconfitta che brucia particolarmente quella di oggi Perché subita contro i loro rivali È uno smacco che i tifosi faticheranno a mandar giù Messi Avrebbero preferito perdere con chiunque altro Oggi l'altrone si sa Certe rivalità nel calcio sono dure a morire I tifosi sarebbero disposti a tutto O di vincere queste sfide Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.